Qui di storie se ne vengono a sapere sempre di più di quelle che anche i giornali normalmente riportano e anche rispetto alle denunce che a volte ci capita di leggere per esempio in questo caso abbiamo una signora che ci sta dicendo una cosa cosa è successo è successo che verso le 20 di sera stavamo scendendo per accedere alla cantina e niente uno che faceva la guardia sulle scale l'altro che faceva la doccia nudo con l'acqua fredda così ci siamo messi a urlare chiamiamo la polizia perché ci siamo spaventati Grazie a tutti